Si trovava a Favara, in Viale Stati Uniti, al numero civico 7379, il latitante empedoclino Gerlandino Messina. Era ricercato dal 99. Intorno alle 17 di oggi, l'inizio dell'operazione, nel giro di pochi minuti, alle 17.05 l'arresto. Il lavoro è stato svolto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, reparto operativo diretto dal Maggiore Leotta e dal nucleo investigativo diretto dal Tenente di Nunzio. In aiuto sono intervenuti anche i GIS, il gruppo intervento speciale dei carabinieri, che si sono introdotti all'interno dell'abitazione dal tetto. Lo hanno trovato da solo, con due pistole in mano, di cui una con il colpo in canna. Grazie all'intervento dei GIS, che sono arrivati da Livorno nella serata di ieri, l'uomo è stato stordito ed immobilizzato. Circa un centinaio i carabinieri impegnati in questa operazione. Qualche minuto prima dell'arresto, le strade adiacenti alla via sono state sbarrate al transito. I carabinieri hanno assediato la zona da tutti i lati. Alle ore 18.15 è stato portato via a bordo di una Fiat Brava incappucciato. Sul posto si è recato anche il colonnello Mario di Giulio. Alla domanda se ci sono stati altri arresti, il colonnello di Giulio ha risposto al momento no. L'abitazione dove è stato trovato apparentemente sembrava essere disabitata, addirittura in alcune stanze mancano gli infissi. Adesso per Messina è finita la fuga, dovrà scontare l'ergastolo per associazione di tipo mafioso e vari omicidi. Dal 2001 è ricercato anche in campo internazionale. Il superlatitante negli ultimi anni sarebbe stato secondo soltanto a Giuseppe Falsone di Campobello di Licata, capo incontrastato dell'intera provincia dal 2003. Successivamente l'arresto di Falsone gli sarebbe succeduto alla guida della famiglia grigentina. Come ricorderete, mesi addietro, nel novembre 2009 la squadra mobile di Grigento aveva scoperto uno dei covi di Gerlandino Messina proprio nella città di Favara. All'interno di un garage i poliziotti avevano trovato una stanza nascosta attrezzata con tutti i comfort. Quindi il latitante non si è allontanato dalla cittadina favarese ed è rimasto qui in zona a gestire cosa nostra a Grigentina. Intanto per domani è prevista una conferenza stampa al comando provinciale dei Carabinieri di Grigento per le ore 10 e 30. Nel corso della conferenza saranno illustrati i dettagli dell'operazione. Immediato è arrivato il plauso del governo regionale per l'arresto del boss Gerlandino Messina. La cattura del numero uno della mafia grigentina, ha detto Lombardo, è l'ennesimo risultato positivo messo a segno per liberare la Sicilia dalla mafia. Siamo grati per l'impegno incessante, necessario e continuo di tutti coloro che quotidianamente combattono la criminalità organizzata. A loro, agli organi inquirenti e agli investigatori che hanno messo fine alla latitanza decennale del boss Grigentino, ha detto il governatore, va il plauso del governo regionale.